Ma secondo te uno come Antonio ha la vocazione paterna? Secondo me a lui un bambino piacerebbe solo per rimorchiare di più. Ma smettila! E tu ce l'hai? Io sì. Ma se Antonio si dovesse tirare indietro, mi potrei offrire io. Se tu fossi innamorato di me sarebbe un bel guaio. Perché? Mi sa che ti farei soffrire. Io non sono innamorato di te.